Dunque mi presento brevemente, lavoro per Labster, ho abbassato gli ultimi vent'anni su Educational Technologies e quindi ho lavorato parecchio anche qua in Italia per diversi provider. Da circa tre anni mi occupo dello sviluppo internazionale del business di Labster. Oggi vorrei focalizzare l'agenda su pochi punti, dare un'idea di che cos'è Labster, a chi non lo sa, in Italia abbiamo iniziato da poco e siamo già su alcune università, però sicuramente molti di voi non lo conoscono, spiegarvi che cosa rappresenta la nostra tecnologia, quindi perché sviluppiamo laboratori scientifici virtuali e poi sicuramente ci sono molti docenti tra il pubblico, quindi presentare anche qualche caso di studio molto concreto, quindi sul valore aggiunto che viene riconosciuto a Labster quando viene implementato nei corsi per supportare discipline scientifiche. Allora innanzitutto che cosa facciamo? Facciamo laboratori scientifici virtuali, ossia la possibilità di replicare esperimenti che vengono fatti normalmente nei wet labs, quindi nei laboratori fisici, parliamo di biologia, chimica, medicina, fisica, di replicarli in un contesto virtuale. Qui non parliamo di flash animation o video, parliamo di un'interazione completa. Poi andremo più nel dettaglio. Labster è una società che è stata creata nel 2012 a Copenhagen, e una squadra di successo, il CEO è un docente di biologia, quindi qualcuno che viene proprio dall'altro lato, da chi usa queste nostre tecnologie, e poi c'è Mario Combotecar che è il CTO. È interessante vedere che abbiamo sviluppato le simulazioni di laboratori in collaborazione con molte università, ma anche con diverse entità che sono nel corporate market, ossia per esempio MIT, Harvard, insegnano delle discipline specifiche e hanno realizzato con Labster dei progetti molto specifici per sviluppare delle simulazioni individuali, che poi sono entrate a far parte del nostro catalogo, che è di possibile accesso a tutti i clienti che lo stanno utilizzando. Attualmente abbiamo ormai già oltre 200 clienti, più di metà sono università. Ovviamente il mondo dei laboratori scientifici è un po' all'inizio come mercato, non parliamo della piattaforma LMS come può essere Moodle per esempio, che è già qualcosa che tutte le università hanno in un qualche livello. I laboratori scientifici virtuali sono a livello di integrazione successivo, quindi siamo all'inizio dello sviluppo di questo tipo di mercato, anche se il prodotto è molto solido ormai. Quasi una metà dei nostri clienti vengono anche addirittura dalla parte di high school o corporate. Però l'obiettivo primario per Labster è quello di sviluppare le simulazioni per l'università. Ora, STEM education, Labster in pratica parte da qua, parte dal presupposto che ci sono dei problemi concreti nell'insegnamento di materie scientifiche, che portano poi al livello di drop house, quindi di studenti che lasciano il corso, in particolare dopo il primo anno, che cambiano corso di studio, addirittura molti se ne vanno, e ci sono problemi concreti su quello che viene chiamato student engagement e student success, quindi quello che poi motiva lo studente a studiare e trovare concretezza in quello che studia, già dai primissimi anni di studio. C'è anche un problema molto concreto di accesso ai laboratori. Ora, tutte le università scientifiche hanno dei laboratori, il problema è quanto è possibile accedere a questi laboratori per un singolo studente, quindi quanta pratica a fare. E' su questo che Labster ha un valore aggiunto notevole. Ci sono delle criticità che sono abbastanza comuni a molte università, non solo qui in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi ci sono dei limiti relativi alla salute, alla sicurezza, ai costi di sviluppo e di mantenimento dei laboratori. E considerate che non stiamo pensando di rimpiazzarli, ma di supportarli e complementarli con le nostre tecnologie. E poi ci sono sicuramente problemi proprio di accessibilità, per cui uno studente attraverso Labster potrebbe accedere alle simulazioni in laboratorio e sviluppare esperimenti, praticamente a 360 gradi, le 24 ore al giorno. Quindi questi problemi sono comuni anche a grandi università, anche università con un budget notevole, come vedremo, in particolare per quanto riguarda gli strumenti che vengono utilizzati nei laboratori. Ora, ecco, questo è uno screenshot di un laboratorio. Quello che Labster propone, quello che vede ormai da diversi anni sul mercato che realizzano i nostri clienti è un approccio ibrido, quindi non si suggerisce di abbandonare l'accesso, la manualità specifica che si acquisisce in un laboratorio fisico, ma anzi si supplementa con l'uso di Labster. E, ecco, Labster fornisce quello che normalmente spesso non si ha addirittura nel laboratorio. Ossia, chi è pratico del laboratorio vede che già entra qui in qualcosa che sembra quasi una nave spaziale, mentre invece è un laboratorio avanzato, è centrato a MIT o a Harvard, insomma ci sono dei laboratori con macchine, strumenti, insomma molto avanzati che normalmente non si trovano in molte università o sono di difficile accessibilità. Il fatto di replicare in un contesto virtuale quello che si trova in un contesto fisico, è un'idea che viene dal settore dell'aviazione, che è già molto consolidato da molti anni. Ossia, molto più del 90% degli studi sono a favore di utilizzare i simulatori di volo perché il pilota acquisisce un'esperienza molto maggiore, anche in fasi di criticità, per cui l'aeroplano può anche cadere, però se cade nel mondo virtuale nessuno si fa male, ma il pilota proprio anche dagli sbagli eventuali che lui può aver effettuato impara. E questo è un concetto di base che l'Apster sicuramente ha riportato nell'ambito dei propri laboratori. Ora entriamo in un piccolo video, senza audio. Allora qui è un esempio di come funzionano i laboratori. C'è una parte di gamification, dove ci sono delle storie concrete che lo studente appunto deve affrontare per risolvere delle missioni. Quindi capire perché c'è una moria di pesci in un contesto inquinato, studiare un tumore e andare in ospedale addirittura, studiare il DNA attraverso una casa di CSI, e poi entrare nel laboratorio fisico, praticamente completare quel tipo di esperimenti che normalmente appunto farebbe un laboratorio fisico, ma entra in un laboratorio virtuale. È un'esperienza individuale, per cui ogni studente a un certo livello si tratta proprio di adaptive learning, perché riesce a progredire nella simulazione in base al risultato. Riesce anche ad avere un tipo di esperienza che va anche al di là di quello che troverebbe nel laboratorio. Proprio a livello molecolare riesce a capire meglio quello che poi succede. Il laboratorio può maneggiare dei virus molto pericolosi, che sarebbe difficilissimo, quasi impossibile in molte università, può appunto commettere errori, può avere un'esplosione in laboratorio. Non si fa male, ma impara a capire perché c'è stata quell'esplosione e poi da lì praticamente proseguire. Entra un pochino più nel dettaglio. I casi di studio, questa gamification, vengono utilizzati molto in business, in molti altri settori. Per quanto riguarda le materie scientifiche, ogni docente, ogni studente che segue chimica, fisica, biologia, sa che studia dei casi concreti, ma li studia in maniera astratta, studia le procedure, studia i protocolli. Qua si tratta di entrare dentro, perché è come un game per loro stessi. E quello che riconoscono i docenti che usano l'Apster, è che dice che lo studente viene trasportato in un contesto diverso in cui utilizzare quello che ha preso. Il transfer learning, per esempio. E quindi questo dà modo di fissare molto meglio i concetti, i contenuti, e poi come metterli in pratica. Ora sentiamo cosa dice, ecco, un breve video di... e sempre creare un'engaging storia all'interno di simulazione. Great, you can make it to the crime scene so fast. As you can see to your right on the floor, this is where the professor was murdered. We like to call it gamified learning because the focus is on the learning. Now let's compare the genetic fingerprint of the murderer with our suspect. And then we can also go over in the whole other field where we teach about cancer research. Cutting edge cancer research from MIT, for instance, where we bring this technology out to students globally before it's even physically available as hardware for the students. So in the case of the cancer research, for instance, we create a scene where a daughter meets her mother who has been diagnosed with cancer. And then you learn how to take blood samples from the patient and go into the laboratory and help identify the specific cancer and the treatment for this patient. And then you, at the end of it, see and feel how the daughter and the family sort of overcome this hard challenge for them. So by showing this to the students, their engagement and understanding of the importance of what they learn really increases significantly. We also have simulations where you learn about how you can use DNA from plants to create medicines for students, or sorry, for patients to solve or cure different diseases. Ecco, diciamo brevemente per farvi capire l'importanza di questa gamification che viene utilizzata nei laboratori. Ecco, i laboratori danno appunto la possibilità di un'interazione completa. Quindi non si tratta come fanno alcune piattaforme, cioè di autorizzare lo studente di fronte al banco appunto di chimica e può mescolare a fare quello che vuole. È un percorso, diciamo, predefinito dove ci sono varie opzioni e lui riesce ad andare attraverso tutti quanti gli step e poi vedere come, diciamo, come procede. Equazioni matematiche avanzate, tutto è basato su algoritmi che danno la possibilità allo studente di avere, diciamo, a un buon livello di estensione di esperienza personalizzata. Per cui riesce, ecco, a utilizzare anche, diciamo, macchinari avanzati come quelli che vedete qua. Ecco, queste sono delle repliche che sono nei laboratori. Ecco, questi sono gli screenshot. Ora, chi conosce anche solo un pochino alcune di queste macchine sa che, per esempio, il Next Generation Sequencing Machine è estremamente costoso. Io l'ho visto di solito impacchettato addirittura in un laboratorio, dove ce l'abbiamo, ma non lo usano perché costa troppo, c'è paura che lo rompe. Allora, il fatto è che gli studenti comunque devono imparare e devono imparare e fa parte anche del curriculum. Utilizzando l'Apster, in particolare come attività di pre-laboratorio, riescono a imparare come configurare e utilizzare contestualmente questa strumentazione. Contestualmente, perché appunto c'è la parte di gamification, però poi, quando entrano fisicamente in un laboratorio, voi immaginate che deve fare un esperimento che dura tre ore, poi magari c'è tutta una serie di cose per cui l'esperimento completo durerebbe otto ore. In questo caso si riesce a ottimizzare i tempi, appunto. Inoltre, immaginate un studente che entra per tre ore e è a metà strada, dopo un'ora e mezza ha commesso degli errori per cui deve ricominciare da capo. Lì è finita perché non gli basterà mai il tempo. Invece, avendo fatto la preparazione pre-lab, riesce a ottimizzare questo, spreca meno risorse di lavoratorio e ottimizza la tempistica di quello che fa. E ovviamente alla fine è più preparato. In catalogo ci sono oltre 80 simulazioni di lavoratorio. Una simulazione può durare 45-60 minuti se uno poi riesce a farla bene. Però uno studente potrebbe impiegare anche tre ore a farla perché potrebbe iniziarla, fermarsi, poi proseguire in un altro momento. Insomma, come vuole, non c'è nessun problema. E queste 80 simulazioni spaziano attraverso biologia, biotecnologia, fisica, insomma, ci sono le materie scientifiche tutte e stiamo aggiungendone una media di 3-4 simulazioni ogni trimestre e andiamo abbastanza velocemente. Allora, innanzitutto uno studio che è stato pubblicato su Nature Biotechnology che è molto specifico dove hanno creato gruppi di studio, appunto, di studenti dove c'era chi utilizzava solo il traditional teaching quindi non solo l'apprendimento in classe ma la possibilità di entrare in laboratorio solo per le volte per cui è possibile entrare in laboratorio a fare pratica altri utilizzavano l'appster e poi quello che noi caldamente raccomandiamo è il modello ibrido quindi usare entrambi ora vediamo che gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera eccellente in maniera molto superiore in particolare quando si tratta di Blender Learning Entrando un po' più nel dettaglio noi diciamo l'appster rappresentanti di l'appster fanno parte della commissione del governo danese per la digitalizzazione dell'istruzione ora a Danimarca sappiamo tutti che un paese funziona molto bene e la maggior parte dei paesi purtroppo non funziona come loro però penso che sono cose interessanti da tenere presente io ovunque io presento in tutto il mondo ovunque vado insomma mi dicono che è interessante vedere qualcuno che insomma fa parte aiuta a sviluppare una strategia addirittura a livello nazionale di come di come digitalizzare l'istruzione per quanto riguarda casi specifici di diciamo di università questa è l'università di copenhagen che è con noi da diversi anni qui si tratta di istituto di scienze farmaceutiche veterinaria medicina ora dire che c'è un 45% di successi ecco quello è un numero molto importante perché significa che molti più studenti passano gli esami sono motivati e come dice lo stesso dottore insomma è importante utilizzare l'abster come tool supplementare applicativo supplementare perché si espandono proprio l'orizzonte stesso diciamo dello studente McMaster University è un'altra università che come fanno molte università all'inizio magari vogliono fare un progetto pilota di sei mesi o di un anno non abbiamo nessun problema a facilitare anche questo tipo diciamo di progetti dove qua è stato utilizzato per ampliare per supportare gli studenti per attività di lavoratorio in biochimica di base problemi biomedici della vita reale ora qui avevano selezionato 10 simulazioni e su 800 studenti quindi 98% di studenti ha completato tutte le simulazioni che significa completare una simulazione poiché un singolo studente non riesce a progredire nella simulazione se non azzecca quello che appunto gli viene chiesto nel procedimento e nelle domande perché c'è un tool di assessment che viene continuamente fuori integrato nella simulazione il 98% di quegli studenti ha completato la simulazione significa che ha raggiunto il learning goals quindi gli obiettivi di apprendimento naturalmente alla fine avrà un punteggio potrebbe anche rifarsi la seconda volta la simulazione da capo e sicuramente avrà un punteggio anche migliore però il docente è sicuro che una volta completata la simulazione è solo perché ha capito quello che ci si aspetta da lui in quel particolare contesto non so se qui c'è qualcuno in particolare dell'area di medicina però spesso medicina sono più scettici a volte e mi chiedono ma avete simulazioni di medicina sì le abbiamo quelle sono alcuni dei nostri clienti che hanno addirittura sviluppato quelle simulazioni e utilizzano queste simulazioni insomma nell'ambito dei propri corsi ora perché siamo in Italia ecco questo è diciamo probabilmente il progetto più avanzato che abbiamo in Italia al momento si tratta dell'università di Perusa nel 2017 hanno fatto un progetto pilota su 840 studenti in particolare per l'area di biotecnologia e biologia il progetto è stato di grande successo avevano una success matrix molto ben definita e ovviamente l'obiettivo era di utilizzare l'APSTER per ampliare le attività di laboratorio e insomma raggiungere poi una migliore preparazione degli studenti noi abbiamo fatto anche alla fine di ogni simulazione veniva chiesto poi anche agli studenti stessi di dare un feedback su quello che stavano facendo ora non so se riuscite a leggere lì però in generale ecco questo sono due delle simulazioni per esempio battire all'isolation è quella che veniva presentata prima in quel breve video un'altra experimentation però la maggior parte cioè qui parliamo che oltre la prima per esempio su 369 studenti vediamo che qui parliamo di tipo oltre il 85 diciamo sul 90% degli studenti è d'accordo sull'uso di labster e sul fatto che si sente più fiducioso nelle tecniche di laboratorio si sente più preparato c'è una comprensione molto diciamo molto più profonda della contestualizzazione molti ci riportano che labster è importante in particolare con la parte di gamification perché dà loro la possibilità di vedere il legame fra quello che stanno studiando e quello che trovano nella vita reale in particolare per dopo per quando è completato il corso di studi e questo ha un impatto non indifferente nella motivazione stessa dello studente che è fondamentale poi per questi corsi di studi ora dopo il pilota che è stato di successo l'Università di Perugia appunto ha appena lanciato il progetto di due anni questa volta e l'ha esteso su 3.000 studenti di tutti quanti i dipartimenti abbiamo fatto proprio pochi giorni fa l'evento di lancio e ecco lì ci sono i riferimenti se andate lì sulla bacchecca dell'Università quello che è interessante è che hanno stabilito ovviamente avevano molte priorità e hanno messo diciamo budget per l'abster perché viene riconosciuto come una piattaforma per loro di fondamentale importanza la parte diciamo finale di oggi voglio semplicemente dirvi ecco noi abbiamo questo accesso ai laboratori che sono accessi i laboratori possono essere sono resi accessibili attraverso qualsiasi laptop quindi Windows Mac l'importante è avere una connessione a internet ovviamente vengono integrati in Moodle e questo è anche uno dei motivi per cui siamo qua l'Università di Perugia lo usa in maniera integrata con Moodle quindi questo significa che lo studente single sign on entra nei suoi corsi il docente gli metterà a disposizione altre attività queste attività possono essere delle simulazioni che lui ha selezionato per l'integrazione è un'integrazione LTI quindi diciamo è molto semplice e sicuramente il partner MediaTouch MediaTouch è partner di Moodle ma anche partner di Labster come diceva Andrea quindi vi può supportare ora la realtà virtuale è uno step successivo ossia abbiamo iniziato a convertire parte di queste simulazioni anche per realtà virtuale cioè proprio con il casco quindi per una realtà immersiva più completa ora quello che ci dicono gli studi ad oggi è che la realtà virtuale dà la possibilità appunto di un'esperienza diciamo ancora diciamo più più intensa e questo ha un risvolto positivo ovviamente sull'apprendimento noi lavoriamo sulla piattaforma adesso abbiamo lanciato sul Google Daydream perché appunto qualche mese fa abbiamo annunciato la partnership con Google su scala globale per cui Google ora lavora con noi sullo sviluppo di 30 simulazioni in VR specifiche per higher education e l'università del Arizona State University ha lanciato il primo online degree al mondo basato solo su tecnologia VR questo in particolare per studenti in particolare che non possono andare nel campus che hanno difficoltà ad accedere ai laboratori proprio anche per motivi di distanza o per corsi di aggiornamento però qua è tutto basato sulla tecnologia Labster per FairVR using virtual reality in a stunning new way biology students at ASU putting their skills to unique test it's part of the school's new online biology degree taking lab work out of the classroom ABC 15's Cameron Fulham is in Tempe telling us more about this new technology The future of biology learning can be found inside these VR goggles immersing students in critical lab work without leaving the comfort of their couch I've put on my lab coat and gloves now I'm tasked with identifying genetic mutations that determine the sex of worms I have access to microscopes a centrifuge and an entire lab all produced in virtual reality The learning goal there is to put science into practice and a lot of that happens in here Michael Angeletta is helping spearhead ASU's first fully online biology degree the biggest challenge getting students the required lab work without having to come to campus Recent studies show that when students were trained to do this sort of activity in VR they were just as effective at going into the lab and doing it for real The answer is now yes the School of Life Sciences partnered with Labster and Google to give 30 students the opportunity to try it out People are already working on technology in fact there's an engineer at ASU working on the technology of putting a glove on and being able to feel responses in that She says the application can one day be used for history majors to go back in time to see the past first hand but are virtual labs giving students the training they need when they enter the real world Can we send students to Antarctica to do experiments on organisms they'll never see in their lives Can we send them to a lab that doesn't exist that has like millions of dollars of equipment that they would never get to play with right in a teaching lab A different route getting the same results He says in the future students will have access to even more powerful technology that will also allow them to feel the equipment even when it's not there Once we show that there's this potential for education it's going to take off In Tempe I'm Cameron Polham ABC 15 Arizona E niente praticamente ogni giorno lo usano migliaia di studenti labster studenti sia delle scuole superiori sia dell'università dove labster ha un impatto maggiore in particolare nei primi due anni di Foundations Year perché quegli anni sono fondamentali abbiamo molte simulazioni che supportano moltissimi corsi di laurea Io avrei finito qua ho cercato di contenere tutto Bene grazie Massimo per questa rapida presentazione abbiamo ancora qualche minuto per eventuali domande naturalmente per chi desidera farsi un giro nella realtà virtuale e vedere come labster ha integrato in Moodle abbiamo una postazione nella zona snack quindi si può anche prendere un caffè oltretutto e può sia farsi un giro con la realtà virtuale vedere le integrazioni e vedere tutte le spiegazioni del caso Chiudo prima di rimanere le domande ricordatevi che anche nel pomeriggio avremo una sessione in questa sessione ci sarà una piccola sorpresa quindi chi vuole può partecipare e speriamo che ci sia parecchia gente e detto questo la parola a voi per le domande sono Matteo Dominone di Bicocca non mi era chiarissimo se il catalogo è chiuso cioè uno compra quello che c'è oppure i partecipanti hanno la possibilità di ampliare il materiale e personalizzarlo la seconda domanda è quanto ci vuole per produrre quante ore di lavoro per produrre un'ora di laboratorio con l'Appster allora il catalogo diciamo è un catalogo chiuso nel senso che è un catalogo online dove ci sono simulazioni complete e quindi chi paga la licenza è una subscription annuale naturalmente che si fa ha accesso a tutte le simulazioni normalmente noi diamo questo insomma di tipo di accesso le simulazioni sono simulazioni molto complesse per cui una simulazione sola richiede dai 6 ai 9 mesi per essere sviluppata fino a quando si disegna proprio tutto quanto il processo noi abbiamo due dipartimenti uno il content team dove ci sono tutti quanti hanno un PhD nella loro disciplina specifica quindi fisica chimica biologia e lavorano alla parte contenutistica e poi c'è il team quello ingegneristico per la parte di sviluppo web e i costi sono altissimi per cui non sarebbero cioè normalmente ecco quelle università che avete visto che hanno sviluppato queste cose con noi l'hanno fatto in co-funding con delle con delle delle grants molto specifiche di sviluppo mentre invece una università normale che ecco per esempio come dicevo prima quella di Perugia si calcola gli studenti che hanno si fa un costo per studente ha una licenza flat accede a tutto quanto il catalogo in questo senso altre domande benissimo ringraziamo grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti